buongiorno a tutti oggi andiamo a parlare di una funzione molto particolare dei nostri cellulari bron di senior questa funzione particolare viene chiamata controllo remoto che cosa significa riusciamo a distanza a controllare lo smartphone dei nostri genitori della persona anziana della persona che abbiamo lasciato il nostro cellulare brondi a cosa serve questa funzione mettiamo il caso che il nostro genitore o chi sia gli abbiamo dato il nostro telefono brondi erroneamente ha attivato la funzione riunione quindi ci chiama e ci dice guarda che non mi funziona più il cellulare non suona più non sento più le suonerie e tutte queste cose qua che cosa succede io non posso andare a casa del genitore perché abito lontano quindi posso controllare da remoto come si fa ad attivare questa impostazione menu vado in impostazioni ok controllo remoto vedete gli do l'ok imposta numero però prima di impostare il numero mi sposto con la freccetta verso su vado sullo stato e vado ad attivarlo vedete che c'è scritto acceso ora mi sposto torno indietro con questo tasto qua indietro vado su impostazione numero ok vado a mettere fino a cinque numeri che questi numeri qua potranno mandare degli sms con dei codici poi vi faccio vedere per impostare le varie funzioni quindi vado a mettere dentro il mio numero di telefono aggiungi in questo caso o mi ricordo il mio numero di telefono o io l'avevo già registrato come numero A è fatto indietro ok ora andiamo a provare come funziona cos'è che possiamo fare con questo controllo remoto possiamo andare a mettere la suoneria più alta quindi al massimo del volume sia la suoneria delle notifiche tutte queste cose qua possiamo andare impostare la rubrica impostare m1 e m2 che sono questi due tasti che di solito vengono messi i due numeri principali delle persone che ci stanno più vicino quindi non so vogliono l'ho annullato vado a metterlo come nuovo m1 m2 non so la figlia noemi il figlio Giosuè sono i due numeri che io voglio chiamare ok m1 andrò a registrare un figlio e m2 l'altro oppure le persone che mi stanno più vicine oppure posso andare a mettere il tasto SOS che ho già spiegato in un video come funziona il tasto SOS posso andare a impostare i quattro numeri oppure posso andare anche ad impostare la rubrica la rubrica la rubrica l m1 e m2 già detto eliminare i numeri SOS impostare i numeri SOS e il volume massimo delle persone quindi adesso andiamo a fare una prova prendo il mio cellulare ok andrò in messaggi messaggi ok io adesso vado a mettere il menu le impostazioni dei profili lo metto in riunione ok attiva e adesso in modalità riunione attivata questo è un sbaglio che magari la nostra persona cara può fare e quindi se qualcuno mi chiama io adesso provo a chiamare la suoneria è bassa e magari non mi sentono chiamate in arrivo solo in silenzio ma non sento nessuna suoneria ok adesso mia mamma si preoccupa diceva non mi funziona più il telefono non va più la suoneria benissimo io da remoto posso essere anche a uno a palermo e l'altro a venezia posso mandare un messaggio per riattivare la suoneria come si fa vado a vedere le mie impostazioni in questo caso abbiamo impostazione volume al massimo vado a mandare un codice se vedete qui scritto codice sms e asterisco volume cancelletto max proviamo a mandare questo messaggio vediamo se cambia qualcosa ricordatevi che avevo impostato la suoneria in silenzioso vado su messaggi mamma ok vado qua scrivo cancelletto ma c'è scritto qua di maiuscola vol cancelletto e maiuscola max e invio messaggio inviato ok vedete che cambiata la suoneria prima in vibrazione adesso è cambiata non non gli arriva nessun messaggio di informazione hanno cambiato è arrivato il messaggio no in automatico arriva e è tornata suonare in effetti se adesso vado a vedere la mia impostazioni i profili ok è tornato in generale quindi io da remoto io ho cambiato il profilo e così possa fare tante altre cose adesso vi metto qui una lista di quello che può fare come dicevo prima questo libretto lo trovo all'interno di ogni cellulare brondi impostazioni ss impostare a ss sono i numeri che vado a chiamare come avevo già spiegato nell'altro video che in caso vi lascio in descrizione eliminare i numeri ss impostazione del volume quello che appena fatto impostazione m1 e m2 i numeri più chiari che vi dicevo prima e impostazione rubrica vedete posso andare aggiungere dei numeri in rubrica da remoto secondo me è una funzione che nessuno ne parla ma molto molto importante secondo me se pensiamo che non tutti sono vicini ok quindi se se il video vi è piaciuto mettete un like iscrivetevi al canale e attivate il tasto delle notifiche per restare sempre aggiornati grazie a tutti e arrivederci